Un omaggio a uno dei dolci più apprezzati non solo in Italia ma in tutto il mondo attraverso una rivisitazione in chiave meridionale con i sapori e i profumi del gargano. Ecco a voi il tiramisù, un'originale rielaborazione del dessert nato un secolo fa nelle regioni settentrionali. L'ideatore di questa particolare rilettura del dolce è Leonardo Vescera, 37 anni, di vieste, ristoratore e cuoco di fama internazionale, che nonostante la giovane età ha già lavorato all'ambasciata italiana a Parigi e nell'esclusivo Mossiman's Club di Londra, ossia il ristorante della famiglia reale a pochi passi da Buckingham Palace. Dell'originale il tiramisù conserva lo zabaione e il caffè, per il resto niente savoiardi e mascarpone. A loro posto si utilizzano il pane raffermo di Monte Sant'Angelo, di altri paesi garganici, poco zucchero, il vin cotto di carrube, la ricotta di capra e mucca. Il pane raffermo, magari di uno o due giorni prima, viene imbevuto con un po' di vin cotto e un po' di caffè. Quindi loro lo fanno col savoiardo, noi col pane, loro col mascarpone, noi con la ricotta, loro con lo zucchero e noi col vin cotto di carruba. Leonardo Vesce ha presentato per la prima volta il tiramisù in occasione di una cena esclusiva a Savelletri durante un evento di Vanity Fair. Il dolce può essere servito in una duplice versione, senza zabaione, quindi facilmente realizzabile in pochi minuti, oppure con cialde e guarnizioni più elaborate, arricchite e colorate dallo zabaione. Dietro la cucina ci sono veramente anni e anni e anni di sacrificio, di conoscenza del prodotto, della materia prima e quindi poi ti porta alla valorizzazione del prodotto del territorio perché i piatti non nascono così per caso.